salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video nel quale farò vedere lo smontaggio della glock 17 della umarex questo smontaggio vale per tutte le glock a co2 ea green gas scarellanti che non quelle a canna fissa e non quelle elettriche perdonate il video fatto tutto registrato tutto in presa diretta con il microfono dell'iphone dovrebbe sentirsi bene però ecco se in un video non ci sono delle scuse non è un vero video ora inzozzerò tanto questa glock comunque procediamo prima cosa che facciamo è rimuovere il caricatore ok dopodiché facciamo inietreggiare la slitta e la blocchiamo con l'hold open a questo punto a seconda della glock che avete dovete tenere premuto verso il basso questo pezzo qua da tutte e due le parti quindi con un dito da una parte con un dito dall'altra nella mia versione specifica non devo tenerlo premuto da tutte e basta premere in questo modo e si incastra nella vostra potrebbe non succedere dopodiché fate avanzare il carrello e la replica è smontata faccio vedere solo un'altra cosa sulla mia replica posso fare anche questo posso ingaggiare l'old open e la replica si smonta ancora più facilmente sulla vostra prima di farlo magari tenete una mano davanti perché potrebbe partire a seconda di quanto sia allentato questo meccanismo dopodiché facciamo avanzare e rimettiamo magari il pezzo a posto se l'avevamo precedentemente incastrato questo è il low receiver la parte inferiore dell'arma che è completamente smontata qua volendo possiamo incastrare il cane ok con un po di fatica per incastrarlo prima per un di questo pezzo e poi prevederlo in basso lasciatelo incastrato mi raccomando la canna ovviamente si può ulteriormente smontare togliamo questo bellissimo molla con guida molla guardate qua quanta tecnologia ragazzi molto molto bello dopodiché tenendo fermo il gruppo aria con un dito facciamo avanzare la canna la pieghiamo e la estraiamo verso l'altra dopodiché si può estrarre anche proprio la canna dell'arma molto facile da cambiare molto anche molto facile anche cambiarlo basta evitare questi due vitine molto comodo metallo ovviamente per rimontarlo ovviamente rimettiamo tutto al suo posto in questo modo sempre delicati ragazzi non fate come me eccoci qua prendiamo la slitta inseriamo la canna poi la incastriamo prendiamo la molla con guida molla la incastriamo davanti e dietro e qua passaggio importante nella versione umarex nella vostra non lo so assicuratevi che questo pezzo sia posizionato in basso non lasciatelo in alto in questo modo qua o di lato se no semplicemente non funzionerà quindi mettetelo dritto e in basso dopodiché prendiamo la parte inferiore assicuriamoci che il cane sia armato per facilitare l'operazione ok inseriamo qua la slitta non c'è bisogno di prendere questo verso il basso la glock fa tutto in automatico ok premiamo in modo abbastanza deciso che ecco questo succede quando il pezzo non è posizionato bene posizionato ben verso l'alto mi raccomando e scarigliamo l'arma fatto si è rimutato assicurati che tutto funzioni e rimettete il caricatore bene questo è tutto se vi interessano altri video sulla glock altri video del genere iscrivetevi al canale cercate in descrizione perché ho fatto una recensione prova di tiro close up eccetera eccetera su questa fantastica pistola dell'home max noi ci vediamo ad un prossimo video bene ragazzi